Grazie a tutti. In altre attività e posso crederlo e sicuramente devo esprimere il mio sincero ringraziamento anche al direttore ancora Christophe Popov del Museo archeologico perché quando gli ho proposto finalmente la data dopo tante richieste, tante volte che avevamo tentato, subito ha accettato con entusiasmo e ha messo a disposizione questo luogo. Che ci accomuna l'archeologia e perché l'archeologia è così importante oggi che vogliamo andare su Marte, oggi che abbiamo ambizioni sicuramente extraterrestri? Non ve lo spiegherò io sicuramente ma quello che vorrei sottolineare è che la presenza di un ospite come Christian Greco qui, a giudicare dal suo curriculum che il direttore Christophe Popov mi ha lasciato, un curriculum lunghissimo. Io penso che potrete sicuramente vederlo su internet e alla portata di tutti ma da studente brillante che si è laureato con il massimo dei voti alla scuola speciale di Pavia ha poi scelto un percorso di lettere classiche che lo ha portato, non proprio casualmente, all'Università dell'Eiden in Olanda dove c'era un corso di egitologia. Io ricordo una sua frase che citava a proposito di questo curriculum, curriculum di studi, scolastico, di vita, in cui quando ha comunicato ai genitori che voleva continuare in questo percorso di egittologia c'è stato un lungo silenzio al telefono perché forse i genitori avrebbero preferito che si specializzasse in qualche altra attività più commerciale oppure si fosse dato alla magistratura, chissà. Mentre tutti i suoi colleghi già avevano avviato una carriera, il professor Greco si ostinava a studiare egittologia. È rimasto 17 anni all'Università di Leiden, studiando, preparandosi e il suo approdo al Museo Egizio di Torino è stato, non dico accidentale, ma ha risposto a un bando di concorso aperto a tutti perché oramai i musei italiani aprono a tutti coloro che vogliono, che si sentono di poter portare avanti un museo la possibilità di presentarsi sia noi italiani o stranieri. Quindi messo di fronte, è stato selezionato, forse neanche lui avrebbe avuto questa prospettiva o meglio non pensava di poter arrivare fino in fondo e gli hanno detto fra dieci mesi apri, quando gli hanno dato l'incarico, fra dieci mesi dovrai aprire il museo. La direzione di un museo archeologico, lo saprà bene il professor Popop, non è sicuramente un museo di arte contemporanea che ha delle capacità di accattivare un pubblico perché il pubblico si aspetta, va bene, ho già visto i reperti, so che cos'è il museo, quindi è difficile attirare il pubblico. Il professor Greco in cinque anni è riuscito a moltiplicare gli introiti del museo come? Aprendo un dialogo con il pubblico, ma non soltanto aprendo un dialogo con il pubblico, quindi sicuramente capacità comunicative perché è riuscito a creare dei contesti narrativi diversi, cioè il museo racconta delle storie diverse e il suo direttore si è ricordato anche di quando era studente, di quando aveva bisogno di attingere informazioni e quindi organizzano, non si è fermato soltanto al dialogo con il pubblico, uscendo fuori anche perché si organizzano delle attività nelle carceri, negli ospedali, ma facendo del museo un centro di ricerca, di innovazione. Quindi immagino quanto sarà difficile poi continuare con l'attività di scavo perché continua, come vi dirà lui, anche l'attività di ricerca nel museo e, dicevo prima, si è ricordato di quando era studente perché organizza ogni anno dei corsi estivi, si occupa degli stagisti che vogliono approfondire certi argomenti, quindi trova lo spazio, ha attivato i momenti, il tempo, i luoghi per far incontrare le persone, perché dialoghino anche tra loro. Ha attivato una serie di incontri, di memorandum, di intesa con 90 istituzioni in tutto il mondo perché ci si scambi le informazioni. Ecco, secondo me più che dei titoli accademici, sicuramente dottorati di ricerca, questo è quello che conta, questo è quello che vogliamo sapere dal direttore del Museo Egizio. Io so che siete impazienti di ascoltare lui e vi lascio alle sue parole. Grazie. Eccellenza, signor Ministro, direttore, ringrazio vivamente per l'invito e per me è davvero un piacere essere qui. Dopo così tante parole che sono state spese nei miei confronti, adesso è un po' difficile parlare perché non posso che deludervi, ma cercherò di spiegarvi nel tempo che mi hai dato in primis brevemente cos'è il Museo Egizio e parlarvi poi dell'attività di ricerca e di connessione del museo nel suo tessuto sociale che stiamo portando avanti. Prima di iniziare vi devo dire che io ho come monito, che seguo sempre, una frase di uno dei più grandi direttori del secolo scorso e dell'inizio di questo secolo, quello che forse è il museo più importante al mondo, Metropolitan Museum of Art di New York, Philippe de Montebellot. Nel 2006 fece una mostra sugli incunaboli, ovvero su questi primi libri molto fragili che devono essere protetti, che non devono essere esposti alla luce perché potrebbero rovinarsi. E a seguito di proteste che vi furono, di persone che ritenevano che la tutela, la conservazione del bene potesse essere messo in discussione dall'esposizione, lui disse una frase che io non mi dimenticherò mai, ovvero disse che il rischio maggiore che il patrimonio culturale corre è quello di essere dimenticato, che la tutela non è solo la mera conservazione e restaurazione, ma è il connettere il bene culturale con il suo tessuto. Se la popolazione non si rende conto che il passato è il proprio DNA per vivere il presente e la chiave per interpretare il futuro, il bene culturale non ha futuro. E disse un altro, fece un altro monito molto importante per i musei, e disse nessun museo può avere l'arroganza di pensare di esistere per diritto divino, ma ogni giorno deve conquistare il suo diritto di esistere. Il che significa forse uscire da una Turris e Burnea e riconnettersi e capire che il museo non è una società sospesa, ma fa parte della società. Capendo anche quindi che la società in tutti i suoi vari segmenti, quindi ovviamente partendo dagli scholars, dall'accademia, dagli studiosi, a cui in primi si deve rivolgere, agli studenti, ai vari segmenti di popolazione, per arrivare fino ai bambini piccolissimi che devono cercare di essere incuriositi rispetto al patrimonio culturale, e anche ai luoghi che ci trova prima il direttore, presenti in un tessuto cittadino che forse non possono raggiungere il museo. Quindi il museo fuori dal museo è una delle attività che noi stiamo portando avanti. Prima di parlarvi nello specifico delle nostre attività, solo due parole di storia. Il museo egizio di Torino è la seconda collezione più importante al mondo, dopo il Cairo, e anche il museo più antico al mondo. è stato fondato nel 1824, quasi 200 anni or sono, infatti ci stiamo preparando a festeggiare il bicentenario. Mi piace ricordare la figura di un italiano, Carlo Vidua, che fu quasi l'artefice del fatto che il museo oggi esista. Lui recatosi ad Alessandria d'Egitto nel 1819, vide la copia manoscritta dell'inventario che aveva fatto Bernardino Drovetti. Bernardino Drovetti era un suo collega, eccellenza, era il console generale di Francia, anche se nativo di Barbania. Nell'Ottocento il corpo diplomatico non era necessariamente cittadino del paese che rappresentava, ma erano grande personalità che i vari paesi si litigavano fra di loro per portare avanti gli interessi del paese. Dopo la spedizione napoleonica in Egitto, fra il 1799 e il 1801, l'attività a cui più si dedicavano i diplomatici era quella di raccogliere antichità. Era molto più remunerativo che fare il diplomatico, quindi si raccoglievano antichità che poi venivano vendute nel mercato antiquario. Il hub internazionale delle antichità era Livorno, che all'epoca ovviamente non era Italia, era il gran ducato di Toscana, sotto la guida illuminata di Leopoldo II di Toscana, grande ammiratore dell'archeologia. E a Livorno arrivavano i delegati di tutte le corone d'Europa che litigavano fra di loro perché ognuno voleva comprare la collezione egizia più importante. Ebbene, questo Carlo Vidua, un giovane nobile proveniente da Conzano, nel Monferrato, vicino a Torino, recatosi ad Alessandria d'Egitto e avendo visto l'elenco delle opere che Bernardino Drovetti aveva raccolto e che stava per mettere in vendita, i possibili acquirenti erano diversi perché fu offerto a San Pietroburgo, fu offerto a Parigi e poi si affaccia anche il piccolo regno di Sardegna. L'Italia non esisteva perché l'Italia sarà unificata nel 1861, quindi siamo 42 anni prima dell'unità. Carlo Vidua, per tramite di Prospero Balbo, scrive al re di Sardegna e gli dice l'Italia che non esisteva. Il cancelliere Metternich diceva che l'Italia era un'illusione geografica e quindi non esisteva politicamente, disse Torino deve comprare questa collezione. Solo se Torino comprerà questa collezione, l'Italia, che non esisteva, sarà un grande paese perché avremo la prima collezione di antichità classiche in Rome, la prima galleria in Firenze e la prima collezione egizia in Torino. Ebbe una visione incredibile. Dopo vicende dinastiche, nel 1823 finalmente il regno di Sardegna decide di comprare la collezione per 400.000 lire piemontesi, che significa 60 milioni di euro, una cifra molto importante, ma vi do un altro dato che è ancora molto più importante, significa i tre quarti del bilancio del regno di Sardegna. Non potete capire quante volte io l'abbia detto al ministro della cultura italiana, visto che l'Italia adesso investe lo 0,4% in cultura, allora gli ho detto ma se sognassimo un attimo e investissimo il 75% del PIL in cultura e ricerca, cosa potremmo raggiungere? Per ora è un sogno, ma non bisogna smettere di sognare, perché io continuo a ripetere che la cultura e la ricerca siano il vero motore di crescita di un paese. Ebbene, il Museo Egizio, e fra un po' ve lo dirò, ha avuto un grande rinnovamento che ha portato alla sua totale riapertura il primo aprile 2015, rinnovamento dell'edificio, per quanto concerne il sistema di gestione dei beni culturali italiano, anche un grande rinnovamento dal punto di vista istituzionale e di gestione del bene. Noi non siamo più un museo statale, il che significa che la collezione e l'edificio ovviamente sono proprietà demaniale e proprietà dello Stato, ma il sistema di gestione è privato. Il Museo Egizio infatti è una fondazione, il che ci dà una snellezza di operatività che un'istituzione pubblica avrebbe più difficile ad avere. Nella fattispecie, sia io sia il mio personale abbiamo dei contratti privatistici, io sono libero di bandire concorsi e di assumere il mio personale, c'è un risvolto della medaglia, non ottengo ovviamente finanziamenti statali e mi devo sostenere con la vendita dei biglietti. Fatica immane, perché significa ovviamente che noi dobbiamo continuamente intercettare e cercare di avere degli introiti, però il pubblico ci sta davvero ripagando. Come diceva Sua Eccellenza l'Ambasciatore, siamo arrivati a triplicare gli introiti, quindi avevamo un bilancio di quasi 4 milioni di euro, adesso siamo a 12 milioni e mezzo, 10 milioni di euro dovuti a bigliettazione, 2 milioni e mezzo ad attività che facciamo in tutto il mondo e al bookshop e questo ci ha permesso di fare esplodere anche il nostro personale. Io sono arrivato e avevo solo 13 persone che lavoravano per me, adesso siamo in quasi 50 e questo in un concetto di piena sostenibilità. Non solo, ogni anno chiudiamo il bilancio con degli avanzi che si attestano in genere tra i 500 mila e gli 800 mila euro che vengono direttamente destinati alla ricerca, a finanziare borse di dottorato e di postdoc e questo mi permette anche di fare una programmazione a lungo termine. È il paradiso? No, assolutamente no, perché se lo chiedete a me ovviamente il museo avrebbe bisogno quantomeno del doppio del finanziamento che abbiamo. Ritorno a quel concetto della ricerca su cui all'inizio scherzavo un po', ma fino ad un certo punto. dobbiamo smettere di pensare che il bene culturale, lo stiamo facendo molto anche in Italia, possa essere la panacea dei problemi economici del Paese. Il bene culturale non è un fardello che abbiamo sulle nostre spalle, è un nostro punto di crescita, ma per crescere, e può essere un assisto indispensabile per la crescita, bisogna investire. Io lo dico sempre, Google l'anno scorso ha investito 6 miliardi di euro in realtà virtuale, non si siede, non dice abbiamo già il nostro bacino d'utenza. E il bene culturale per rendere deve essere oggetto di studio e di ricerca costante.